La religione dice pian piano a Dio, coinvolto l'indante che fino all'estasi di consumano man mano, si riprova ad attuare con le parole totus floreo, l'amore montato. Ma più ancora giunge alle sue orecchie una storia assai dolorosa, quanto vedere pian piano cadere i tetali di una rosa. Narra di un ricco mercato veneziano, in cui i figli morivano appena nati. E per vincere la sorte, il più piccolo in un molastero affidò a degli avali. Ogni giorno il bambino si recava davanti all'immagine della Vergine che Gesù in braccio teneva, per donargli un cibo e pregare che la vita non gela. Ma un giorno anche la sua piccola esistente improvvisamente cambiò. Domani verrai a mangiare con me e con mio padre. Gesù gli sussurrò. 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 Grazie a tutti, grazie a tutti 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 Grazie a tutti